buongiorno questa è la seconda lezione dedicata al popolo franco e in questa seconda lezione affrontiamo una seconda dinastia che era la dinastia dei pipinidi che poi vennero chiamati carolingi ma appunto il loro nome primario è quello di pipinidi poiché il fondatore è appunto porta il nome di pipino poi vennero chiamati carolingi perché il successore più celebre appunto è carlo magno eravamo arrivati durante la scorsa lezione a vedere quali fossero i motivi di fragilità della regalità merovingia ed ora appunto siamo pronti per vedere come avviene il passaggio di potere dai merovingi ai pipinidi e poi come si configuri questo potere dei pipinidi soprattutto nei confronti dell'altra grande potenza a quell'epoca esistente che è quella del papato quindi nella lezione di oggi vedremo parleremo molto brevemente di pipino primo e anche del secondo pipino parleremo un po più diffusamente di carlo martello quantomeno perché è molto conosciuto così anche solo nominalmente e poi in realtà gran parte della lezione è dedicata direi quasi la quasi totalità è dedicata appunto all'ultimo pipino pipino il breve che poi altri non è che il padre di carlo magno e vedremo come si esplica la sua politica nei confronti delle altre forze esistenti in campo ovvero nei confronti di longobardi e nei confronti di bizantini e anche nei confronti e soprattutto direi nei confronti del papato ma cerchiamo di andare con ordine e risaliamo appunto al primo pipino ora non c'è molto di più da dire rispetto a questo o meglio ci sarebbe molto da dire a voler approfondire ma per quanto riguarda una conoscenza così abbastanza cursoria della materia va benissimo questo quindi questo pipino primo è maggiordomo di palazzo cioè maggiordomo di neustria per clotario secondo ricordiamoci sempre che quando indichiamo il questo qua è il re ed è un re merovingio quindi a noi interessa questo nome solamente nei termini in cui abbiamo un punto di riferimento come punto di partenza proprio per la nostra dinastia ma ricordiamoci sempre che appunto non è un re questo pipino primo è un maggiordomo e quindi abbiamo visto che è un amministratore di un determinato tipo di territorio che è la neustria in questo caso uno dei suoi discendenti qua in mezzo abbiamo degli altri nomi ma io per ridurre la quantità la mole insomma dei dati ho tagliato veloce e sono arrivata a questo pipino eristallo viene chiamato oppure di eristallo o derstal è il bisnonno di carlo magno lui è maggiordomo di austrasia dal 680 alla morte morte che è nelle 714 dopo cristo ecco quindi anche per noi anche questo è abbastanza interessante da vedere ma insomma niente di particolare per quanto riguarda i grandi passi della storia ricordiamo sempre che è appunto maggiordomo ricordiamo vediamo fisicamente proprio che la carica di maggiordomo è ereditaria e piano piano ci avviciniamo a quello che è il nostro punto d'arrivo che rappresenterà il fulcro delle nostre lezioni cioè carlo magno ci soffermiamo invece un attimo di più proprio su carlo martello a partire dal nome allora innanzitutto qua c'è una rappresentazione si vede che tiene in mano un martello questa qua ovviamente è una rappresentazione molto molto successiva non lasciamoci ingannare dal nome questo martello non è assolutamente legato al fatto che questo personaggio combattesse in battaglia con un martello ma il suo nome viene proprio da una derivazione di un dio cioè dal dio marte e questa derivazione è legata alla sua fortuna in guerra la sua capacità in guerra allora diciamo un paio di cose di questo carlo martello innanzitutto come si vede qua lui era maggiordomo di austrasia di neustria è il nonno di carlo magno e adesso cerchiamo di aggiungere un paio di dati il primo dato che aggiungiamo appunto sono delle guerre delle guerre che vengono fatte nei confronti di popoli confinanti come per esempio i frisoni per esempio gli alamanni o ancora i borgognoni e i provenzali quindi queste sono tutte delle popolazioni finitime cioè confinanti o già all'interno del territorio dei franchi che però ancora manifestavano delle intemperanze e quindi tendevano a delle rivolte oppure dovevano essere sottomessi e comunque tutta questa azione bellica è sempre volta all'espansione dei confini del territorio franco vuoi sul fronte orientale vuoi sul fronte invece meridionale tuttavia in qualche modo carlo martello diventa molto più famoso e passa poi alla storia per aver combattuto contro gli arabi questa battaglia qua è una battaglia che risale a 732 d.C. e va sotto il nome di battaglia di Poitiers ora la battaglia di Poitiers in realtà fu una battaglia minore non solo fu una battaglia minore ma fu una battaglia che si concluse con un nulla di fatto una sorta di risultato alla pari ma perché diventa importante questa battaglia di Poitiers? perché ha un valore dal punto di vista della propaganda cioè dal punto di vista dell'immagine che di se stesso dà il popolo franco è infatti da questa battaglia qua che i franchi vengono visti come salvatori della cristianità occidentale e questa definizione qua per noi è estremamente importante perché è attraverso questa battaglia che i franchi attirano su di loro l'attenzione del papato del papa quindi che comincia a vederli come dei possibili alleati d'accordo? quindi è proprio attraverso questo sistema di notizie di diffusioni della notizia che ottengono il favore del papato e non lo tengono solo come popolo franco ma questa battaglia ha anche la capacità di mettere in luce proprio il suo comandante cioè Carlo Martello e quindi di mettere in luce non solo e non tanto il popolo franco ma anche e forse oserei dire anche soprattutto esattamente la dinastia Pipinide a questo punto cerchiamo di rallentare un po' la narrazione lasciamo alle nostre sparle Carlo Martello con tutto il suo armamentario e giungiamo invece a parlare del parente più prossimo di Carlo Magno che è Pipino il Breve ora cominciamo a discutere un po' innanzitutto Pipino il Breve è maggiordomo di Austrasia e di Neustria e svolge questa funzione sotto il re Childerico Terzo che era appunto un sovrano merovingio ma a questo punto il potere Pipinide è diventato estremamente forte e lo è concretamente forte nel senso che la loro capacità di amministrare il territorio la loro capacità di imporsi anche dal punto di vista bellico sul territorio è diventata chiara e assolutamente evidente così chiara e così evidente che all'alba del 751 d.C. Pipino decide di mandare un'ambasciata direttamente al Papa è un'ambasciata che viene mandata in realtà di nascosto o quantomeno nascosto è l'intento finale di questa ambasciata qual è questo intento? l'intento è quello di domandare al Papa di porre al Papa un quesito preciso questo quesito è il seguente il titolo di re deve aspettare a chi ha realmente il potere o a chi lo detiene nominalmente quindi a chi ha realmente il potere oppure opzione B a chi lo ha nominalmente ora che cosa significa porre questa domanda? significa chiedere al Papa ovvero ad un'autorità di tipo religioso è giusto che il potere sia tenuto dai merovingi che hanno effettivamente il titolo di re e che si passano di padre in figlio questo titolo oppure invece è giusto che ad avere la sovranità sia colui che effettivamente concretamente esercita la carica di capo non ancora re ma di capo e beh a questo punto il Papa che in questo caso all'epoca era Papa Zaccaria gli risponde dicendo che deve essere re chi ha realmente il potere e quindi la conclusione di questa ambasciata è che nel medesimo anno Pipino il Breve ha un'incoronazione viene deposto Childerico III quindi deposizione dei merovingi ed incoronazione a sua son per mano del vescovo bene a questo punto quindi il nostro Pipino il breve diventa re dei franchi ma su questa incoronazione dobbiamo fare alcune riflessioni e scriverci alcuni punti importanti da ricordare allora la prima cosa che possiamo dire è che a tutti gli effetti si tratta di un'usurpazione che cosa significa un'usurpazione? significa che viene sottratto illegittimamente un titolo di re una posizione però quindi ci mettiamo un ma è un'usurpazione che viene sanificata sanificata da un'altra entità cioè dal Papa e questo è un primo punto molto importante la seconda cosa che possiamo notare è che è un'incoronazione che avviene tramite unzione e di unzione abbiamo parlato anche con i merovingi ora da questo concetto dell'unzione derivano per noi almeno due riflessioni la prima cosa che possiamo dire è che un re unto cioè unto con l'olio sacro è sicuramente più potente di ogni altro re questo perché? perché in qualche modo si manifesta un rapporto unico tra questo tipo di re qua cioè un re unto un rapporto tra la sovranità cioè il fatto di essere re e una sfera ultramondana cioè una sfera che va al di là del mondo sensibile e quindi una sfera che ha a che fare niente meno se non con Dio bene la seconda conseguenza o la seconda riflessione che noi possiamo fare su questa cosa dell'unzione è che attraverso questa unzione accade una cosa abbastanza particolare per quanto concerne il potere del Papa perché il Papa si arroga il diritto cioè prende per sé il diritto di legittimare un fatto giuridico allora come dire detta proprio semplicemente il Papa non dovrebbe avere niente a che fare con l'elezione di un re Clodoveo si era fatto battezzare ma non si era fatto incoronare ecco quindi il fatto che invece il Papa legittimi un'incoronazione era una cosa che doveva aspettare in teoria ad un imperatore quindi all'imperatore di Bisanzio non sarebbe dovuto aspettare al Papa questa cosa qua diventa molto importante soprattutto nei secoli a seguire perché gioca un ruolo importantissimo nell'attribuire un potere al Papa che sarà estremamente scomodo per gli imperatori estremamente scomodo per i re perché significherà che ogni volta un fatto giuridico cioè l'essere re deve essere convalidato da un uomo che in realtà dovrebbe operare in una sfera religiosa quindi è importante questa cosa un'altra cosa che deriva direttamente dall'unzione è l'ereditarietà del titolo e quindi è chiaro che a questo punto i Pipinidi a pieno diritto fanno avere il titolo di re ai loro discendenti quindi i due figli di Pipino al breve che saranno Carlo quello che diventa Carlo Magno e Carlo Manno diventeranno automaticamente re dei Franchi questa quindi è una cosa assolutamente importante ed è per questo motivo che ci siamo fermati di più su Pipino al breve ora vista questa situazione e capite un attimo qual è l'importanza di questa cosa vediamo però un'altra un'ultima conseguenza di questa incoronazione ovvero da questa incoronazione quindi da questo momento in poi inizia il rapporto che è un rapporto che dura secoli tra la corona dei Franchi e il Papato e a questo punto dobbiamo fare un attimo una pausa e tirare in ballo un altro elemento allora l'altro elemento è l'elemento Longobardo quindi qua da questa cosa qua viene fuori un'alleanza e questa alleanza viene condotta esattamente contro i Longobardi prima di andare avanti diamo un attimo un'occhiata a questa carta geografica che non è il massimo della vita ma insomma riesce a far capire abbastanza ora la parte arancione a spanne quindi si vede chiaramente è il territorio Longobardo e si capisce anche che questo qua in giallo è il territorio bizantino ma questo è il territorio del Papa sostanzialmente bene questo territorio del Papa come si può vedere è stretto sia da nord sia da sud dai Longobardi quindi nonostante ci sia formalmente un'alleanza tra Longobardi e Papa nonostante i Longobardi siano convertiti al cristianesimo e quindi non dovrebbero sulla carta rappresentare una minaccia per il Papa di fatto i Longobardi hanno voglia di unificare tutto questo territorio dove c'è scritto esarcato qua c'è l'esarcato e la pentapoli in realtà qua è segnato solo esarcato ma non ha importanza e quindi lo stato pontificio che è qua perché Roma è esattamente qua in mezzo si sentirà sempre minacciata da questa presenza in qualche modo a Tenaglia sia a nord che a sud dei Longobardi quindi questa è la premessa i franchi vengono da questa direzione qua d'accordo bene allora cerchiamo di mettere giù alcuni dati non manca molto allora primo dato di cui tener conto per quanto concerne i Longobardi innanzitutto sono convertiti al cristianesimo dal 653 dopo Cristo e vabbè e abbiamo detto questo sulla carta dovrebbe renderli alleati ma abbiamo un primo ma punto numero 2 uno dei loro re che si chiama Liut Prando comincia un'azione espansionistica e quest'azione espansionistica viene portata avanti con la scusa della soppressione di una rivolta e lo porta a occupare quindi all'occupazione di quelle zone che vengono chiamate Esarcato e Pentapoli ovvero di questa zona in rosa qua in mezzo peraltro è una zona che congiunge sostanzialmente la città di Venezia la città di Ravenna la città di Perugia alla città di Roma e qua in mezzo sostanzialmente in questo senso qua esiste una via molto importante che è la via Flaminia quindi durante il Medioevo bisogna anche tenere conto che le vie di comunicazione erano molto importanti perché non erano curate non c'era più quella consapevolezza che c'era durante l'impero romano quindi avere la via Flaminia che è una via che valica gli appennini era sicuramente un motivo di interesse per tutti ora a fronte di questa occupazione qua aggiungiamo un elemento numero 3 cioè c'è un Papa che si lamenta contro Liut Prando e questo è Gregorio II è un Papa si oppone appunto fa delle lamentele nei confronti di Liut Prando e riesce ad ottenere ottiene quella che viene chiamata la donazione di Sutri e la donazione di Sutri viene descritta come l'inizio del potere temporale dei Papi quindi inizio del potere temporale che cosa significa temporale significa un potere che comprende la proprietà di beni immobili quindi di territori di regioni di palazzi e via dicendo era una cosa che formalmente cioè informalmente già esisteva però viene formalizzata da questa cosa a questo punto i rapporti tra i Longobardi e il Papa sembrerebbero abbastanza sereni se non ci fosse un ulteriore ma e questo ma arriva con un re successivo perché questo re Longobardo si chiama Astolfo e questo Astolfo in qualche modo riprende la politica espansionistica ma a questo punto c'è un elemento politico in più e questo elemento politico in più sono i franchi e sono dei franchi che guarda caso sono stati consacrati dal papato a questo punto quindi la conseguenza di questo nostro ultimo punto abbiamo arrivato al punto 4 ma insomma la numerazione si può fare come si vuole è un incontro tra Pipino III un accordo in qualche modo se vogliamo tra Pipino III e il Papa Papa nel contempo era cambiato non era più Papa Zaccaria ma si chiama Papa Stefano II che cosa avviene che i due si incontrano si incontrano nelle zone dei Franchi questa volta quindi avviene un incontro nel 754 dopo Cristo e durante questo incontro innanzitutto c'è un episodio abbastanza interessante per cui Pipino accoglie con tutti gli onori il Papa scende da cavallo gli va incontro prende il cavallo per la staffa il cavallo del Papa lo prende per la staffa questo è quello che in latino viene chiamato stratori sufficium ovvero era l'onore che veniva concesso ad alcuni re di fare da parafreniere al Papa cioè di condurre a piedi il cavallo la cavalcatura del Papa questa è una cosa su cui si aprirà un grande dibattito durante l'epoca medievale perché viene letta come un atto di sottomissione di un re nei confronti del Papa e quindi in un mondo che tende a contendere il potere tra Papa quindi ed impero chiaramente fare illustratori sufficium non sempre piace ci sarà un episodio celeberrimo durante il quale Federico il Barbarossa si rifiuterà di rendere ossequio a Papa Adriano IV e si rifiuterà appunto di condurre a mano il cavallo del Papa stesso ma insomma intanto Pipino lo fa si incontra nel 754 e nel 754 viene rinnovata l'unzione e viene rinnovata l'incoronazione in più durante questo incontro vengono unti anche i figli di Pipino che sono appunto Carlo il futuro Carlo Magno e Carlo Manno parleremo di nomi magari nelle lezioni su Carlo Magno ad ogni modo questa era la parte dell'accordo favorevole a Pipino a favore del Papa che cosa viene? a favore del Papa viene innanzitutto una discesa in Italia dei Franchi contro i Longobardi che infatti vengono sconfitti ripetutamente prima nel 754 e poi nel 756 e c'è anche una una conseguenza dal punto di vista territoriale nel senso che il Papa ottiene Lazio Umbria la Pentapoli quella zona rosa di cui avevamo visto prima l'esarcato è un documento sulla base di un documento che si chiama Donazione di Costantino quindi avallata dalla Donazione di Costantino la donazione di Costantino dedicherò una lezione a parte adesso basti sapere questa cosa è un documento scritto in realtà all'epoca proprio di Pipino terzo e poi retrodatata al 313 dopo Cristo secondo il quale Costantino avrebbe donato al Papa di fatto il comando e il potere su tutto l'impero romano occidente ma torniamo con calma su questa cosa prendiamo atto semplicemente di questo il Papa ottiene Lazio, Umbria e Pentapoli ed esercato quindi tutta l'Italia centrale però toccando entrambe le coste della penisola quindi tutta questa zona qui d'accordo sia la zona rosa sia la zona gialla centrale in cambio di questo viene in qualche modo stabilito che Pipino sia nominato Patricius Romanorum ovvero protettore del Papa alla lettera è protettore dei Romani ma significa del Papa politicamente bene nel frattempo anche in casa Longobarda le cose sono cambiate infatti c'è un nuovo re che si chiama Desiderio abbiamo detto che appunto è Longobardo e si decide di trattare una pace tra Franchi e Longobardi e questa pace avviene attraverso come spesso accade una politica matrimoniale questa politica matrimoniale ricade sui due figli di Pipino il breve Carlo infatti uno e Carlo Manno l'altro sposeranno due figlie del re Desiderio ora scrivo i nomi poi facciamo un appunto Carlo sposerà quella che viene chiamata Ermengarda oppure Desiderata e Carlo Manno invece sposa Gerberga ecco mettiamoci un bel asterisco su questa perché in realtà il nome di Ermengarda è un nome falso è un nome che viene dato dopo è un nome di fantasia che viene dato dal Manzoni che fa un'opera su questo fatto storico e che decide di chiamare la figlia di Desiderio appunto Ermengarda in realtà noi non sappiamo di preciso come viene chiamata perché subisce una damnazio memorie cioè la sua memoria viene cancellata dagli annali storici e viene cancellata perché pochissimi anni dopo il matrimonio vuoi perché non riusciva ad avere figli vuoi perché in realtà l'area politica stava cambiando e ben presto i franchi avrebbero combattuto contro i Longobardi beh Ermengarda verrà ripudiata da Carlo e Carlo lavorerà pian piano per costruire il suo impero che appunto lo farà chiamare Carlo Magno la lezione finisce qui vediamo quelli che sono stati i punti fondamentali cambiamo il colore allora stiamo parlando dei Pipinidi abbiamo visto che i Pipinidi seguono la dinastia dei Merovingi e abbiamo detto che dire Pipinidi o dire Carolingi è la stessa cosa li abbiamo chiamati Pipinidi perché il loro fondatore effettivamente è un Pipino che riveste la funzione di Maggiordomo benissimo il secondo nome a cui abbiamo fatto riferimento è questo bisnonno di Carlo Magno anche lui non abbiamo detto moltissimo ma abbiamo visto semplicemente che anche lui era Maggiordomo e che si porta avanti questa carica in senso ereditario quindi non siamo di fronte a nessun tipo di re arriviamo ad un personaggio più famoso quello di Carlo Martello Carlo Martello innanzitutto siamo a questo punto al nonno di Carlo Magno e abbiamo visto che il motivo fondamentale per cui viene ricordato è questa battaglia di Poitiers questa battaglia di Poitiers contro gli arabi ora dal punto di vista propagandistico fa sì che i franchi vengano visti come i salvatori della cristianità occidentale essere considerati salvatori della cristianità occidentale significa ottenere anche il favore del papato quindi il papa comincia a vederli di buon occhio comincia a vederli di buon occhio non solo i franchi ma comincia a vedere di buon occhio proprio i Pipinidi e questo vantaggio sugli altri si farà assolutamente concreto con il successore ovvero con Pipino il breve ora Pipino il breve è il padre di Carlo Magno è sempre maggiordomo quindi parte come maggiordomo ma ad un certo punto il potere merovingio è così fragile dire che nel 751 lui manda un'ambasciata al papa chiedendogli se di fatto sia possibile un'usurpazione visto che era lui ad avere concretamente il potere e il papa che è papa Zaccaria gli dice di sì di conseguenza nel 751 abbiamo un'incoronazione che avviene per mano del vescovo a sua son quindi non per mano del papa e Pipino il breve diventa ufficialmente re dei franchi il re merovingio viene deposto e viene mandato in convento non viene ucciso abbiamo detto che qua ci sono delle conseguenze e delle riflessioni importanti da fare innanzitutto si tratta di un'usurpazione ma è un'usurpazione che viene sanificata dall'intervento di un altro potere che è quello papale ed è un'incoronazione che avviene tramite l'unzione e l'unzione abbiamo visto che era già molto importante innanzitutto un re unto significa che è un re molto più importante e molto più potente di ogni altro re in seconda battuta si istituisce un rapporto stretto tra il concetto di sovranità cioè dell'essere re e il concetto di una sfera ultramondana cioè è un re che è molto vicino a Dio questo fa sì che l'ereditarietà del titolo ci sia quindi i figli di Pipino breve saranno a loro volta re ma ci dice anche una cosa molto importante sul ruolo del Papa cioè il Papa si arroga nessuno glielo dà se lo arroga cioè se lo prende da solo se lo prende da sé il diritto di legittimare un fatto giuridico quindi il Papa non si occupa più solo di fatti di chiesa ma si occupa di fatti di politica che da un punto di vista istituzionale dovrebbero aspettare all'imperatore di Bisanzio e non a lui quindi è importantissima questa cosa e poi inizia un rapporto cioè un'alleanza tra i Franchi e il Papato contro un'altra popolazione che è la popolazione dei Longobardi che geograficamente dava molto fastidio al Papa perché lo stringeva sia da nord che da sud e quindi il Papa si sentiva in qualche modo minacciato che cosa accade allora abbiamo detto alcune cose dei Longobardi loro erano convertiti al cristianesimo quindi erano cristiani dal 653 ma con dei problemi perché avevano sempre questi re come Liut Prando che tendevano a occupare quelle zone cioè tendevano a congiungere questi questi due domini del nord e del sud ai danni di questa striscia di terra che era una striscia di terra bizantina che erano l'esarcato e la Pentapoli a fronte delle lamentelle di Gregorio II abbiamo la donazione di Sutri e quindi Liut Prando cede dei territori al Papa dando avvio in qualche modo al potere temporale ma questa politica espansionista viene ripresa da Astolfo a questo punto questa politica espansionistica però si scontra con l'alleanza di cui prima e quindi Pipino III e Stefano II il Papa si mettono d'accordo 754 si rifà l'unzione vengono unti i figli Carlo e Carlo Manno c'è una discesa in Italia dei franchi contro i Longobardi per due volte 754 e 756 i franchi sono sempre più forti perché hanno sempre una cavalleria molto forte il Papa riesce ad ottenere Lazio Umbria Pentapoli ed esarcato quindi tutta quella striscia che abbiamo visto che comprende la via Flaminia avvallato dalla donazione di Costantino Pipino ottiene il titolo di Patricius Romanorum cioè di difensore ufficiale del Papa nel frattempo cambia il re anche dai Longobardi abbiamo questo re desiderio che tenda una pace nei confronti di Franco attraverso una politica matrimoniale Carlo Manno sposa Gerberga Carlo sposa quella che viene chiamata appunto Ermengarda ma viene chiamata così dal Manzoni noi ci fermiamo qui e la prossima volta vedremo proprio come il potere venga preso dal figlio di questo Pipino breve Carlo che farà un'azione di governo così potente da essere nominato Carlo Magno spero di essere stata chiara buono studio e buon lavoro per la prossima e buon lavoro